Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. In questa stagione ci stiamo occupando del world building e oramai è quasi un mese che vediamo tecniche su come lavorare bene e cosa evitare di fare quando bisogna scrivere un'ambientazione. Dato che ho visto che nello scorso mese ci sono stati un bel po' di nuovi arrivati, andatevi a riprendere i video precedenti perché questo è un discorso lungo e non si può ripetere da capo ogni volta. Per quanto riguarda invece le domande per il video che compriamo una settimana prossima, io probabilmente in questo momento che voi vedete il video ho già cominciato a lavorarci quindi mi dispiace ma per chi non è riuscito a farle oramai fuori tempo massimo, aspetteremo l'anno prossimo. Questa settimana invece più che di un errore formale andremo a parlare di una tendenza che molti Master hanno, soprattutto quelli più inesperti, di voler aggiungere una quantità di materiale enorme all'ambientazione anche quando non serve assolutamente, ottenendo semplicemente di rendere la cosa tutto molto più complicata di quello che dovrebbe essere, facendo te perdere tempo sia a loro stessi che ai loro giocatori. Ci sono un po' di modi in cui questa cosa viene definita, personalmente il mio preferito è la sindrome di Tolkien. Volenti o nolenti il gioco di ruolo è sempre stato influenzato dal fantasy, il primo gioco di ruolo è stato Dungeons & Dragons che è sempre stato il gioco più venduto in assoluto, tranne per un breve periodo in cui è stato soppiantato da Pathfinder, che è un altro gioco di ruolo fantasy derivato alla terza edizione di Dungeons & Dragons. In pratica questo ha fatto in modo che quasi la totalità dei giocatori prima o poi si sia trovata a giocare in un'ambientazione fantasy e che di conseguenza tutti i master prima o poi abbiano dovuto mettersi a scrivere un'ambientazione fantasy. E il fantasy per come lo concepiamo noi oggi deriva in larghissima parte dal lavoro di Tolkien. Non credo di dover stare a spiegare chi sia Tolkien. A questo aggiungete che c'è una naturale tendenza all'interno di tutte le arti da parte dell'artista di andare a emulare le opere che sono piaciute e di adattarsi anche solo inconsciamente al canone di un determinato genere. Se andiamo a unire queste due cose cioè la tendenza a emulare le opere che ci sono piaciute e la dipendenza del gioco di ruolo dal fantasy otteniamo che nel corso del tempo si è fondamentalmente stabilita in maniera implicita una tendenza da parte dei master a cercare di creare ambientazioni che abbiano un enorme mole di materiale di presentazione storico, politico e geografico che le sostenga. Tutti prima o poi mentre hanno cominciato a buttare giù il materiale per la propria ambientazione hanno cominciato a fare quei ragionamenti secondo cui devo disegnare l'intera mappa del mondo, devo mettere i nomi di tutte le città devo creare i confini di tutti i regni e per tutti i regni devo sviluppare una storia e poi su ogni altro elemento che hanno inserito hanno deciso di sviluppare ulteriormente altri elementi che lo giustifichino. Fondamentalmente molti master hanno cercato di riscrivere il Simarillion. Purtroppo però una campagna basata su principi del genere è semplicemente destinata al fallimento. Tolkien in realtà era un filologo il cui scopo era quello di creare un corpus mitologico per l'Inghilterra ispirato alle grandi saghe norrene dell'est Europa, qualcosa che secondo lui alla cultura inglese mancava e ha cominciato a prendere i primi appunti a sviluppare i primi concetti del mondo di Ardia agli inizi del novecento quando ha cominciato a lavorare sulle lingue degli elfi. La prima edizione del libro è del 1957 considerando che di mezzo c'è stata anche una guerra mondiale quindi sicuramente non ci ha lavorato per tutto il tempo però vuol dire che sulla sua opera ci ha lavorato almeno 40 anni. 40 anni di tempo per scrivere un'ambientazione sono grossomodo 40 anni di più del tempo che voi effettivamente avete per farlo. Senza contare che la maggior parte del materiale di giustificazione dell'ambientazione prodotto a Tolkien non compare né nel Signore negli Anelli né nell'Hobbit in realtà è poi stato raccolto nel Simearillion che è una sorta di libro storia fantasy. Comunque non è così indispensabile per l'opera e per la sua comprensione ma a voi che non siete un filologo che vuole creare un corpus mitologico ma un master che deve creare un'ambientazione per farci giocare dentro i propri giocatori creare un libro di storia fantasy che in realtà non serve per la quest che state scrivendo non serve a nulla anzi è semplicemente uno spreco del vostro tempo che potrebbe essere utilizzato per lavorare sulla campagna. Molti altri master invece probabilmente rendendosi conto di non poter competere con l'opera del sommo prendono invece ispirazione dai manuali di ambientazione che anche in questo caso sono diffusi per moltissimi giochi soprattutto nell'ambito tradizionale. Anche questo però in realtà è un errore che porta a ricadere nella sindrome di Tolkien. Un manuale d'ambientazione che viene pubblicato per un gioco di ruolo è un'opera scritta da varie persone, spesso dozzine di persone che sono dei professionisti del settore e che lavorano per prepararlo un paio di anni. Tutto questo sono delle cose che vanno al di là delle capacità e delle possibilità di un master che debba preparare una quest per i suoi amici. Al di là del fatto che non necessariamente può possedere le competenze professionali di un scrittore professionista perché non è uno scrittore professionista, due anni di lavoro e un gruppo di lavoro in una dozzina di persone non è né uno staff accettabile né un tempo di lavorazione accettabile per la quest che dovete proporre mercoledì prossimo ai vostri amici. Senza contare che molte delle ambientazioni più amate in generale, pensate ai Forgotten Reams, a Greyhawk ma anche solo alla Night City di Cyberpunk, sono delle ambientazioni che non sono state scritte a tavolino e poi pubblicate, sono state aggiunte, integrate e rielaborate nel corso di 20 o 30 anni man mano che la storia editoriale dei giochi procedeva. Anche in questo caso decadi di lavoro che voi non avete a disposizione e al di là di tutto questo chi si occupa di scrivere questo genere in materiali è un professionista che viene pagato per farlo, quindi si occupa di quello, tutto il suo tempo e le energie sono dedicate alla scrittura del manuale del gioco di ruolo. Voi non siete un professionista e di conseguenza dovendo anche andare a lavorare o a scuola o quello che state facendo non potete dedicare tutto il vostro tempo alla scrittura di un'ambientazione. La trappola della sindrome di Tolkien alla fine è proprio questa, cercare di di imbarcarsi nella scrittura di un'ambientazione così imponente che semplicemente non potrà mai essere finita in tempi utili o in molti casi che non potrà mai essere finita, punto. Quando vi mettete a lavorare su un'ambientazione badate bene a gestire il vostro tempo e a separare ciò che sarebbe carino creare da ciò che effettivamente vi serve. Non serve sapere i nomi e le specialità gastronomiche tipiche di ogni città del regno se tanto in questo momento i vostri giocatori non possono raggiungerne più di un paio e dal proseguire della storia che avete previsto si fermeranno in queste città probabilmente per un paio d'ore al massimo. Se proprio sarà necessario avrete modo e tempo di espandere questi dettagli in seguito magari col proseguire della campagna o magari riutilizzando la stessa ambientazione in una campagna più avanti. Considerate anche che più materiale producete che non sia strettamente relativo alla campagna o alla quest che state conducendo in quel momento più materiale avrete da fornire ai giocatori per giustificare tutto quello che stanno vedendo e più roba date ai giocatori da imparare più possibilità ci sono che vadano in confusione e che alla fine non si ricordino assolutamente nulla di tutto quello che avete preparato. Ne ho anche parlato in un video qualche anno fa ve lo metto qua sopra se dovete andare a recuperare. Cercate di concentrarvi su pochi dettagli pochi luoghi e pochi elementi che però siano particolarmente significativi per la campagna una quest in cui appaiono tre png molto ben caratterizzati sarà ricordata a distanza di anni una quest dove appaiono 30 png tutti con un nome ma senza alcuna personalità semplicemente non verrà ricordata oggettivamente sarà una quest peggiore e in realtà sarà una perdita di tempo per tutti i partecipanti. Mi dispiace se alcuni di voi se la sono presa male non volevo infierire ma a volte bisogna dire le cose come stanno. Concentratevi sullo scrivere quello che effettivamente vi serve per mandare avanti la vostra campagna e comunque magari nel corso degli anni se continuerete ad ambientare varie campagne all'interno della stessa ambientazione e vi segnerete tutte le cose può darsi che dopo dieci anni vent'anni che masterate in quell'ambientazione abbiate effettivamente accumulato abbastanza materiale di gioco da avere un'ambientazione che può effettivamente competere con dettaglio come un'ambientazione ufficiale pubblicata senza però dimenticare mai che lo scopo non è quello di creare un manuale di geografia fittizia ma quello di creare un contesto in cui possano svolgersi le storie degli avventurieri perché è quello lo scopo del gioco far giocare i giocatori. Diciamo che per questo video è tutto settimana prossima ci sarà il video speciale del comprando nel canale per cui vi ho chiesto le domande la settimana scorsa tra due settimane invece ritorneremo con l'arte del masteraggio per vedere un altro errore diciamo l'errore opposto a quello abbiamo visto questa settimana fino ad allora se avete domande dubbi o perplessità scrivetevi nei commenti qui sotto e fatemi anche sapere come voi gestite le vostre ambientazioni da questo punto di vista se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere nuove notifiche io sono il mastercai noi ci vediamo al prossimo video